sul decreto crescita marotta piange i microfoni di sky lotito piange i microfoni di sky commesso piange i micro l'unico che dice a noi non ce ne frega un cazzo siamo tranquilli abbiamo abbiamo lavorato noi sul futuro per i prossimi dieci anni a juventus ha una risorsa economica importante per il futuro è stato massimiliano allegri in conferenza stampa quindi anche su questa cosa qua i problemi sono i vostri e non i nostri marotta ma servono soldi veri i buoni pasti non servono più ma i baci i soldi e cacci i soldi ciao